Buongiorno Ingegnere Azzolini, ci presenta la sua azienda. Sì, grazie della domanda. Noi siamo un'azienda di una quincina di persone, ci occupiamo di automazioni elettroniche industriali e anche di vendita di componenti da questo settore. L'azienda nasce nel 1996 da due fratelli, mi sembra un po' il modello americano, noi siamo in cantina, non in garage. E poi da lì, con una serie di cresciti negli anni, siamo arrivati alla struttura di oggi, dove l'azienda ha una parte tecnica con circa 4-5 persone, una parte commerciale con altre 3-4 persone, e poi tutto quello che è il backup office commerciale e assistenza clienti. Credo che le principali ragioni di successo dell'Azzolini SRL siano una conoscenza tecnica e una capacità tecnica all'interno delle aziende molto sviluppate, che ci hanno permesso di far crescere poi quella che è tutta l'area commerciale di vendita di componenti, anche a quello che noi ci pregiamo di fare, di vendere anche ai nostri, tra virgolette, competitor. Noi vendiamo i nostri concorrenti. Rispetto ai nostri concorrenti, come dicevo prima, abbiamo questa valenza tecnica molto spinta. Cioè, noi tutto quello che vendiamo, proponiamo o formiamo è seguito da persone del nostro interno. Cioè, noi non deleghiamo all'esterno nulla se non lavorazione puramente manuale. Un'altra caratteristica è che questa particolarità di non delegare niente ci porta ad avere sotto controllo tutto il ciclo della fornitura. Per cui eventuali ritardi sono gestiti da noi, non sono delegati a terzo. Un altro dei punti istintivi che abbiamo rispetto alla concorrenza e mi reggancio alla nostra natura tecnica è il servizio di assistenza e riparazione. Venendo proprio dal servizio di riparazione abbiamo ampliato circa un anno fa e questo qui è il risultato per cui abbiamo potenziato tutto quello che è il reparto riparazione. E ad oggi siamo in grado di riparare qualsiasi componenti dell'automazione che esistono sul mercato.